sono il figlio di un mito o almeno così che ogni tanto mi considerano e allora mi tocca dire no non è vero non è così sono figlio di aldo cervi di verina castagnetti e a dire la verità un po ce l'avrei su con questo mito perché si è portato via mio padre se l'ha mangiato così in un solo boccone mi ha lasciato in cambio soltanto un nome una lapide e poi fare di lui un pezzo di un monumento unico una statua a sette teste sette uomini sette vite sette morti sette medaglie chi parla è ad elmo cervi figlio di aldo uno dei sette fratelli cervi uccise dal regime fascista il 28 dicembre 1943 si chiamavano gelindo antenore ferdinando agostino ovidio ettore aldo erano contadini e partigiani catturati torturati e fucilati nel poligono di tiro di reggio emilia ammazzati senza processo come rappresaglia per l'uccisione di un segretario comunale fascista quando suo padre viene ucciso ad elmo ha appena quattro mesi io non ho perso un mito io ho perso mio padre quindi cioè per quello di quel mito si parla come come se fosse dice gli eroi e cose del genere io non ci credo il fatto degli eroi non credo a questo credo ai combattenti mio padre era un combattente la famiglia ha seguito quello che portava avanti mio padre contro questa dittatura fascista hanno dovuto combattere anche con le armi perché quando c'è la guerra non le discussioni purtroppo non valgono più ed è gente che la scelta è stata fatta perché bisognava liberarsi da una dittatura che bisognava liberarsi dal nazifascismo si dice che nessun figlio dovrebbe vivere senza conoscere un padre e che nessun padre dovrebbe seppellire un figlio il padre dei cervi al cide seppellirà tutti e sette i suoi figli e ricorderà sempre il momento in cui gli sono stati portati via non avevo capito niente e li avevo salutati con la mano l'ultima volta speranzoso che andavano al processo loro sapevano ma hanno voluto lasciarmi l'illusione e mi hanno salutato sorridendo con quel sorriso mi davano l'ultimo addio maledetta la pietà e maledetto chi dal cielo mi ha chiuso le orecchie e velati gli occhi perché io non capissi e restassi vivo al vostro posto non aver conosciuto un padre questo desiderio penso che ce l'avrò fino all'ultimo minuto della mia vita perché vorrei abbracciarlo ho stretto mio padre ti avrei da dirgli che è stato che è stato un grande che il suo sacrificio non è stato in vano perché lui non l'ha potuto vedere ma è nata è nata un'italia democratica e vorrei dire a mio padre e che ha che abbiamo ancora imparare molto e che non siamo stati abbastanza pronti a lottare come hanno lottato loro sta a noi continuare a combattere questo quello che vorrei dire anche per il 25 aprile non è finita la lotta contro le ingiustizie ci siamo addormentati c'è gente che ha dato la vita perché per combattere contro le ingiustizie e quando c'era bisogno fino in fondo ha sacrificato la sua vita oggi continuano a sentire dei piagnistei basta sono stanco questa brutta la politica un disastro un disastro un disastro quando invece c'era gente che ha dato tutto quello che aveva per poter portarsi un po di libertà mi hanno sempre detto così tu sei una quercia che ha cresciuto sette rami e quelli sono stati falciati e la quercia non è morta va bene la figura è bella e qualche volta piango nelle commemorazioni ma guardate il seme perché la quercia morirà e non sarà buona nemmeno per il fuoco se volete capire la mia famiglia guardate il seme il nostro seme è l'ideale nella testa dell'uomo si nasce e si muore quando si muore per destino è una cosa naturale quando uno viene ucciso è rubato ma guardate il seme è un sorriso è un sorriso è un modello che avevava si usate a fare successo su 20 anni Grazie a tutti.